Il vice segretario della Lega Andrea Cripp ha fatto tappa ad Avellino per un incontro con la base del partito Il Tutto a pochi giorni dalla decisione del centrodestra di candidare alla guida della regione Campania Stefano Caldoro, elezioni regionali ed alleanze al centro della discussione La Lega ha deciso da movimento responsabile che tiene a cuore le sorti del centrodestra di fare un passo indietro per provare a vincere tutti insieme la Campania Questo è un territorio che è amministrato male da una persona che pensa di più a fare comunicazione da reality show piuttosto che a risolvere i problemi degli avellinesi e dei campani e quindi garantiremo alla Campania e ai campani liste pulite con persone che hanno a cuore il progetto e non le opportunità delle elezioni Chiunque abbia avuto dei problemi con la giustizia o che ha fatto parte di amministrazioni chiacchierate del passato non può sedersi di fianco alla Lega in consiglio regionale in giunta e quindi apprezzo la scelta di Cesaro ma è una condizione assolutamente necessaria per avere la Lega all'interno del centrodestra Il deputato Andrea Crippa non ha tralasciato la questione Ariano Irpino dove si andrà al voto anche per le elezioni amministrative Stiamo cercando di trovare la convergenza sul candidato sindaco io tornerò ad Ariano, anzi andrò ad Ariano tra due settimane per parlare del nostro progetto magari anche vediamo se i tempi ce lo consentiranno per presentare il candidato sindaco per provare a vincere una città importante in provincia di Avellino e per cercare di esportare il buon modello di amministrazione della Lega Io penso che si vinceranno le elezioni regionali in campagna perché l'aria sta cambiando perché la gente si sta rendendo conto che De Luca è tante chiacchiere ma poi quando si deve misurare sui fatti e sulle cose concrete il presidente della regione campagna non si fa vedere, non si fa sentire e anche ad Ariano ci sarà un'affermazione importante della Lega e del centrodestra e riusciremo a conquistare la città Grazie Grazie Grazie